bella a tutti asfaltoni benvenuti sul youtube eccoci qui nel grand prix dell'hp barchetta ci siamo qualificati andiamo a vedere in quale gruppo sicuramente il 5 visto il tempo molto alto diamo il gruppo a uno di questi la viene rosa non è un gruppo scherzo ce ne sono almeno due buoni andiamo a vedere questo gruppo se si infatti è uno di quelli dei gruppi forti andiamo a vedere sono tutti da garage 18 e quindi diciamo che io la chiave questo giro non la prendo beno sensei eccolo qua tra l'altro è anche il primo del garage uno dei più esperti perché anche anche i gradi e quindi diciamo che io la chiave già l'ho persa perché questo è troppo forte e andiamo a vedere questi altri gruppi c'è questo gruppo qua che non dovrebbe essere male se non ricordo male no invece non è un gruppo valido andiamo indietro a street rampage è un milione 7 andiamo a vedere ora lui non mi ricordo comunque questi sono tutti il livello 18 chi è pro racer dominic anche lui è molto alto andiamo a vedere bene solitario su lufus hanno fatto il gruppo kamikaze stone kamikaze emerald mamma mia ma che che gruppo mi è capitato un gruppo pazzesco c'è difficile quindi è questo kamikaze emerald guarda qua semplicemente tutti i garage 18 quindi chi chi capita capita le mie chance di vittoria della chiave sono andate al prossimo gp o sbustando allora andiamo a vedere comunque i premi dell'allenamento qui potete fare il tempo che vuole del miglior tempo possibile bene due progetti se facciamo un buon tempo la possibilità di pescarlo anche lì 15 tocca in blu 30.000 30.000 crediti 3 nitro perfetti per i tocca in blu se facciamo anche facile ma andiamo a vedere un attimo i risultati vediamo andiamo qui a vedere i premi per vedere in che gruppo siamo capitati livello 5 come prevedevamo solo una chiave in palio lo vedete livello 4 ce ne sono due livello 3 ce ne sono 3 livello 2 ce ne sono 4 livello 1 ce ne sono 5 in palio tanti altri premi anche migliori ovviamente più un sacco di pacchetti dove poter trovare la chiave vedete 35 30 28 ok noi siamo livello 5 che andava anche bene ma purtroppo solo una chiave disponibile qui ragazzi ve li farò vedere tutti i round che io non arriverò più di quinto sicuro perché già ce ne sono tre o quattro più forti ve lo fatti vedere quindi ok in questo giro è andata abbastanza male e ci vediamo presto con i round ciao a tutti